benvenuti ragazzi sono cometti in marzo oggi volevo fare una sorta di vlog anche se non si vede la mia faccia ma va bene così volevo farvi gli auguri di natale no natale già passato allora volevo farvi gli auguri di pasqua pasqua è troppo avanti e ora siccome oggi è il turno gli auguri dell'ultimo dell'anno e ve li faccio molto volentieri quindi auguri a tutti voi e alle vostre famiglie capiste augurati buon anno a voi e tutte le vostre famiglie quindi ragazzi auguri sembra quasi una minaccia quando uno dice alle vostre famiglie però si usa dire così diremo così e per il resto niente il canale andrà avanti cercherò di portare sempre giochi nuovi lo vedo insomma un po nelle tendenze che vi piacerebbe che portassi molto molti più giochi oppure un canale di scopriamo e ogni giorno portare un gioco nuovo purtroppo non posso farlo perché io essendo così piccolo come canale mi tocca comprare qualsiasi spillo questo canale e vi mostra e quindi sono speso perché comunque un gioco costa 30 40 euro a volte più parte che cerca sempre non comprare i giochi che costano più di 30 euro ma oggi non sa oggi o domani vorrei portare parte coste che un gioco già conosciuto gioca un annetto però l'ho trovato in sconto a 9 euro siccome tanto che lo volevo prendere e lo porterò non so se lo porterò oggi o domani vedremo un po e poi niente per il momento il canale cerco di essere più che altro costante cerco di portare un video quasi tutti i giorni credo tranne la domenica poi inizierò di nuovo a fare live mi devo un po organizzare però credo che lei la ve le porterò inizio solamente con fifa quindi ancora 45 gameplay che ho già registrato e già editato quindi prima porto questi qua e poi inizierò a fare delle live credo che lei la ve le farò non le farò più su tutte e due sul pc su youtube le farò forse unicamente su twitch e poi siccome ho visto che anche su pc si possono registrare se trovo la maniera di trasferirle dopo da twitch a youtube praticamente le farò su twitch o si no vero un po meglio un po organizzare comunque cercherò di fare su una piattaforma sola però vorrei comunque in qualche modo perché ho avuto un sacco di problemi con le live quando non era internet era obs quando non era obs era un aggiornamento quando non era un aggiornamento tutto un casino quindi editando perdo molto più tempo perché alcune volte mi ci vogliono anche cinque ore per fare un video di venti minuti perché considerando magari un'ora lo giochi magari su un'ora per editare ci vogliono due ore poi per fare un tipo venti minuti vegas deve renderizzare deve praticamente deve renderizzare per renderizzare ci mette un'ora e mezzo più una mezz'oretta poi caricarlo su youtube insomma alla fine 45 dipende un po e ci vogliono logicamente se faccio due ore di live tutti i giorni faccio molto prima però tutte le volte è un problema quindi vedremo un po io voglio tornare a fare il live anche perché comunque anche più pratico e poi vedo che le live interessano anche di più magari di un gameplay registrato quindi vedremo un po comunque fatto sta che io voglio essere presente tutti i giorni una maniera in un'altra ci voglio essere comunque grazie a parte tutto auguri di buon anno speriamo che 2018 sia un anno un pochino migliore e vedremo vedremo un po ma bene comunque io vi ringrazio vi auguro buon anno niente festeggiate stasera non bevete troppo giusto quelle due o tre bottiglie che servono tanto per e quindi ci vediamo ad anno nuovo ancora più vecchi di prima che bello buona serata a tutti i giorni tre due uno